Ciao ragazzi bentornati, oggi sono finalmente disponibili le missioni di Mida, andiamo subito in sala agenti a vederla Vediamo il suo video Ed ecco così abbiamo scoperto insieme che Mida ha una collezione di teste d'oro Bene, la prima missione delle sue sfide sarà quella di cercare un lama d'oro fra una discarica, un distributore di benzina e un campeggio Bene, quindi ci rivediamo subito in volo per vedere dove andare insieme Bene, eccoci in volo ragazzi, tanto che atterriamo in quella struttura dove vedete il ping Io vi chiedo per favore un mi piace al video e se vi fa piacere anche un'iscrizione al canale per supportarci nella creazione di nuovi video Bene, stiamo quasi atterrando Se entreremo appunto in questa piccola costruzione dovremo trovare appunto il lama dorato di Mida appeso a un muro Lo vediamo subito, tanto ormai ci siamo Ed eccolo lì Lo cerchiamo E missione fatta Bene, anche per oggi è tutto e alla prossima Ciao ragazzi Ciao ragazzi